Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Lodin1 e oggi siamo in un nuovo gioco con quei due bastanti food server. Bene, come potete vedere ora posso registrare il conf... Vabbè non dilungarti troppo in chiacchiere, parti con la sigla! Bene, siamo qua allora! Conosco già i comandi, bene, ok, ma c'è il cartomagno, ne conosco già il gioco, vabbè, ok, 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 ok. Allora io mi ricorda di Devon Cos'è ringrazio a questo Oh, ok No Ok No No Allora Katmari per il corso No No La soregna di mammita Siiii No grazie Grazie, grazie No 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 La soregna di mammita La soregna di mammita No Mannaggia al cazzo Eh, mannaggia al cazzo No E' beccato La soregna di mammita La soregna di mammita La soregna di mammita No, il cubo c'era Mannaggia al cazzo 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 No ragazzi Il video finisce qui Perché non riesco a superare il punto Noi ci vediamo in un prossimo video Mi spero prima Escrivetevi Comentate Nel tutto mi piace E ciao